Sono qua su questo sito alttribune.com e ho visto questa notizia che è molto interessante cioè nasce Smithsonian Open Access, 2,8 milioni di immagini liberi del più grande museo del mondo dunque l'elenco per andare per accedere a queste immagini che sono diventate free ok per adesso, dovrebbe essere per sempre spero in precedenza aveva reso disponibile online oltre 4,5 milioni di immagini per uso personale ed educativo ma non commerciale, ora con Smithsonian Open Access quasi 3 milioni di quelle immagini recano la dicitura Creative Commons Zero, ovvero senza obbligo di attribuzione, autorizzazione, commissione pagata alla Smithsonian che si impegna ad incrementare questa cifra fino a raggiungere di oltre 3 milioni di contenuti digitali ad accesso liberamente alla fine del 2010 dunque sono liberi, dunque uno li può usare sono andato su questo sito, dunque sono qui e sono andato a fare la ricerca per esempio di mechanical cams ok, vabbè qui mi ha ritrovato delle ruote dentate allitiche ok che era una patente del 1856 un esempio ok poi qua si può scaricarla ok dunque cliccando qua in jpeg dunque uno quando fa le ricerche può andare su questo anche le ricerche meccaniche ok e andiamo a vedere adesso per esempio mechanical linkage vediamo cosa ci porta ok magari in futuro addirittura ci saranno anche in 3d perché può darsi che vabbè non è che ci sia tanto ok comunque anche per delle ricerche meccaniche di avere delle immagini belle ok si può venire su questo sito o questo sito che è www.si.edu.openassess ok ci vediamo alla prossima arrivederci ciao